Non sei cambiato nel tempo, ma a me interesserebbe capire cos'eri prima, cioè nel senso se per caso hai cercato questo tipo di mondo o è stata un'opportunità che è arrivata... Cioè prima cosa facevi, da cosa arrivavi hai cercato... No, è arrivato questo proniglino, ci chiamarono dalla scuola di recitazione, eravamo, non so, 300-400 persone, facemmo queste selezioni, tre, perché poi era Disney, quindi all'epoca sceglievano, davano una preferenza in Italia, ma poi la parola finale era degli americani, erano loro gli americani che decidono questo mi piace, questo sì, sono appunto il cabello, un H, proprio lui in persona, capito, a Los Angeles che decide, e quindi mi prendono a fare Disney Club.